bene, benvenuti alla lezione numero 35 oggi continuiamo in minimax ieri abbiamo visto che quando bisogna implementare degli algoritmi che sono complessi e quindi impiegheranno del tempo per eseguire come praticamente quasi tutti gli algoritmi che vedremo in questo corso il tempo non banale che emette, se sono millisecondi questo discorso non si pone allora se stiamo anche usando un'interfaccia grafica cioè i nostri algoritmi seguono i loro compiti, risolvono il problema mentre l'utente sta interagendo allora è necessario ragionare sui thread e una possibile soluzione che vi ho fatto vedere ieri e che oggi utilizzeremo è quella, siamo nel caso, questo è il gioco del Tris dobbiamo implementare il minimax dentro il gioco del Tris abbiamo una divisione in parte grafica cioè la board, la scacchiera che è una vista che contiene una scena una vista installata su una scena scena che contiene 3x3 celle dove queste celle sono degli oggetti grafici dei rettangoli in particolare che possono al loro interno disegnare con un certo spessore, di un certo colore, di un certo sfondo disegnano quello che disegnano ora io oggi non vi spiego la parte grafica perché rispetto a quello che abbiamo fatto con il Pacman questo è più facile, più semplice e impiegherei quei 15 minuti che invece sottrarrei a cose più importanti quindi ovviamente sono disponibile se mi volete fare domande anche durante la sessione di laboratorio magari ad alcuni progetti questa cosa interessa perché alcuni progetti hanno una scacchiera e quindi potrebbero essere interessati a questa particolare soluzione comunque ci sono commenti il codice non è tanto, è molto breve quindi rimando alla vostra analisi del codice mentre è più interessante quello che accade nella classe deputata alla logica del gioco in realtà qui si è fatta una scelta determinata da cosa? un po' anche dalla semplicità del gioco stesso però è una scelta che ha il suo perché ovvero cosa? fondere la logica vi ricordate quando vi dicevo la responsabilità una classe non dovrebbe avere troppe responsabilità in questo caso questa classe ne ha due deve implementare la logica del gioco quindi la meccanica e in effetti eccola qua il gioco si fonda su una semplice matrice di 3x3 caratteri che possono contenere i singoli elementi di questo array bidimensionale possono contenere spazio vuoto significa che non c'è niente la croce o il pallino e poi c'è semplicemente una variabile di turno che indica se il turno true quindi è del giocatore giocatore umano si intende oppure se questa variabile è falsa significa che il turno è dell'intelligenza artificiale e qui ci sono delle parametri diciamo globali costanti che servono solo per capire per noi l'intelligenza artificiale è la X e il giocatore è il pallino poi ci sono una serie di altri metodi di utilità per esempio capire se c'è una vittoria capire se il gioco è finito il gioco è finito quando probabilmente o ha vinto Tizio oppure Caio oppure non ci sono più possibili mosse e quindi ci sarà un altro metodo di utilità che andrà a capire se non ci sono più possibili mosse ci sarà un metodo che farà la mossa e il metodo che farà la mossa non solo deve fare la mossa ma deve controllare che la mossa sia valida quindi c'è un controllo di validità poi se il controllo viene superato si fa effettivamente la mossa inserendo nella casella il pezzo del giocatore corrente se è il giocatore umano quello del giocatore umano quindi il pallino se è il giocatore artificiale la X e poi si mantiene quindi come si modellano le caselle vuote si mantiene una lista di caselle una lista di interi uno dice perché una lista di interi le caselle hanno una coordinata X ed Y perché si tende quando si fanno motori motori di videogiochi o anche intelligenze artificiali si tende un po' a risparmiare più possibile complessità in che senso? avremmo qui potuto dire per dire una lista di caselle libere poteva essere questa una lista di punti una lista meglio di coppie XY ora però le coppie le coppie sono oggetti mentre gli interi non sono gli oggetti gli interi sono proprio delle caselle delle locazioni di memoria nella RAM non sono degli oggetti quindi non c'è la programmazione oggetti in questa ovviamente sì la lista sì ma il singolo dato non è un oggetto non è l'istanza di una classe fossero stati invece questi degli oggetti di tipo punto sarebbero stati oggetti con il loro costruttore di coppie di assegnazione occupavano dello spazio in più quindi dove si può risparmiare si cerca di risparmiare e mi riferisco in particolare ai progetti in cui si deve usare il Monte Carlo quindi Peggy World ancora 2048 anche Begemon cioè dove potete risparmiare risparmiate perché è vero che io vi ho detto che non vale la pena ottimizzare prima ma quando state facendo un'intelligenza artificiale ormai avete capito dalla lezione su Minimax che il giocatore artificiale è tanto più forte quanto più spingete questo D il parametro di profondità dell'esplorazione dell'albero appunto più elevato quindi significa che voi avete un'implementazione magari non efficiente e quindi potete usare un D che ne so uguale 5 se invece avete un'implementazione più efficiente potete usare un D uguale 7 ora usare un D più alto significa implementare un'intelligenza artificiale più forte qui non è più una questione di non ce n'è bisogno e beh più forte è meglio quindi non è che non ce n'è bisogno ma è auspicabile fare un codice implementare un codice efficiente ora com'è possibile mappare è una cosa che però ho deciso di usarla per chi si usa anche in altri contesti dell'informatica spesso le matrici bidimensionali e in generale le matrici n-dimensionali che tra l'altro si chiamano tensori qualcuno forse avrà sentito parlare di deep learning tensor flow ecco quelle cose lì si usa comunque un'indicizzazione monodimensionale perché si usa questo perché nella RAM le matrici non esistono cioè la RAM è un se noi andiamo con la lente di ingrandimento a vedere i flip flop non so se avete fatto un corso di elettronica digitale comunque la ragazzi la RAM è una sequenza di locazioni è un array cioè se dovessimo dire la RAM che cos'è che dimensionalità c'ha la RAM è 1D è 2D è 3D è 1D certo uno vede magari un chip che è un quadrato dice la RAM è 2D no la RAM è 1D è una sequenza di oggetti di locazioni tant'è che la RAM è indirizzabile tramite un indirizzo quando voi usate puntatori quelli sono gli indirizzi delle locazioni della RAM un indirizzo non usate una coppia di puntatori ecco quello vi suggerisce che la RAM è monodimensionale bene quindi qual è il vantaggio di mappare tutto in array monodimensionali e ragazzi il vantaggio che è più veloce ci stanno meglio nella RAM sono più facilmente indirizzabili vanno a finire nella cache sono tutta una questione di efficienza di ottimizzazione che adesso non sto a farla per il mondo comunque in sostanza come si fa a fare questa cosa una cosa che si fa spesso è numerare anzi questa è la convenzione forse più utilizzata in generale dell'informatica se abbiamo una matrice bidimensionale la numerazione avviene per righe quindi noi diciamo che il primo elemento è 0 1 2 questa è la prima riga poi seconda riga 3 4 5 terza riga 6 7 8 quindi è una numerazione che va per riga da sinistra verso destra per le colonne quindi per riga dall'alto verso il basso e per colonne da sinistra verso destra quindi come se avessimo un sistema di riferimento orizzontale verso destra verticale verso il basso che poi tra l'altro è lo stesso sistema di riferimento che si usa nel campo dell'elaborazione delle immagini e infatti ai miei studenti di elaborazione di immagini insegno questo stesso concetto che però lì è usato proprio da tutti quindi non è soltanto per fare il tris ma nel campo dell'elaborazione di immagini si usa quel concetto open cv che è la libreria che ho usato tra l'altro in pacman per fare quell'elaborazione usa questa convenzione quindi questa cosa che vi sto insegnando va al di là modell'esempio del tris per modellare le cele vuote è più importante quindi ci tengo che comunque abbiate ricepito un messaggio bene allora se io però metto qui dei numerini a un certo punto io dovrò convertire quel numero nell'indice della coppia della casella perché comunque la casella vedete la casella ha comunque una coppia xy e perché quella sta comunque graficamente in uno spazio bidimensionale quindi da qualche parte qualcuno me la deve dare questa coppia anzi addirittura il gioco stesso ragiona con una matrice bidimensionale quindi come si fa a convertire una matrice un indice monodimensionale seguendo questa convenzione in matrice in indice di una matrice bidimensionale la regola è molto semplice ragazzi si prende l'indice di riga e lo si divide per il numero di righe poi si prende l'indice di colonna e ne si fa il resto della divisione per il numero di colonna quindi facciamo un esempio 8 a cosa corrisponde l'indice 8 nella matrice 8 diviso numero di diviso diviso 3 sono 3 le righe 8 diviso 3 fa 2 2 virigola qualcosa parte intera inferiore divisione per interi e quindi è 2 e infatti si trova all'indice di riga 2 8 resto della divisione per 3 il resto della divisione per 3 fa 2 perché il numero più vicino è 6 8 meno 6 fa 2 e infatti si trova alla colonna numero 2 questa funzione per qualunque elemento quindi prendiamo 2 2 resto 2 diviso 3 fa 0 il resto della divisione per 3 fa 2 e infatti si trova alla riga 0 e la colonna 2 e ragazzi questa cosa va avanti sempre così e dove è applicata questa cosa è applicata per esempio quando in questo momento l'intelligenza artificiale diciamo non c'è ecco c'è un semplice dire guarda io dormo per 5 secondi e dopo mi sveglio e piglio una mossa a caso come la prendo a caso beh vado a vedere questa lista di celle libere di caselle libere e ne scelgo una a caso come ne scelgo una a caso andando a spostare l'iteratore con l'advance di uno spiazzamento casuale appunto è rand che è un numero casuale diviso resto dell'edizione per la quantità di caselle libere quindi questo mi darà uno spiazzamento a caso dentro la lista di caselle libere ok adesso it quindi contiene it è un puntatore quindi star it contiene l'indice della cella libera selezionata da questo fantomatico motore di intelligenza artificiale che in realtà non è intelligente allora cosa fa? deve ottenere l'indice di riga e l'indice di colonna ora stiamo attenti che però questo è un segnale che trasporta prima quello di colonna e poi quello di riga quindi l'indice di colonna sarà il resto della divisione per 3 e l'indice di riga sarà la divisione con interi di 3 quindi diviso 3 parte intera inferiore ok quindi questo è un po' per capire come gestire il fatto che da una parte io ho una matrice bidimensionale e quindi ho una coppia di indici x y o x sarebbe colonna x y sarebbe la riga e dall'altra parte invece abbiamo deciso e qualcuno avrebbe potuto anche decidere diversamente voi avreste anche potuto anziché fare una lista di interi fare una lista di coppie x y a questo punto non c'era bisogno della conversione probabilmente per questo specifico gioco avrebbe tutto funzionato molto bene perché è un gioco semplice però e però se state facendo Begemon se state facendo 2048 se state facendo Bejeweld probabilmente funzionerà ancora ma vi accorgerete che spingendovi ad una profondità nel caso del minimax o un numero di simulazione nel caso di Montecarlo troppo elevato il vostro codice soffrirà e allora uno si mette a dire che posso fare per rendere il codice più veloce ecco questo è un possibile modo per migliorare l'efficienza del codice quindi è un suggerimento che vi do di modellare le mosse possibili con un codice un intero un numero non una coppia non una tripla a volte le mosse sono complesse magari negli scacchi la mossa ecco negli scacchi la mossa che cos'è? nel Trist la mossa è la casetta libera quindi una coppia di interi negli scacchi la mossa cos'è? chiedo a voi tranne quello che sta facendo gli scacchi secondo voi la mossa negli scacchi come si dovrebbe modellare? senza questo discorso dell'efficienza in generale come si identifica la mossa negli scacchi? e nella dama e in altri giochi simili? dai una mossa prego professore potrebbe ripetere la domanda per favore allora mentre qui nel Trist per noi una possibile mossa corrisponde a una casella libera quindi come indicizziamo la mossa? con l'indice della casella libera quindi coppia di interi x y della casella oppure siccome siamo stati un po' più efficienti addirittura abbiamo mappato questo con un solo intero la mia domanda è nel caso degli scacchi la mossa come si sarebbe dovuta modellare? non più con una coppia di interi perché non basta una casella libera negli scacchi per dire qual è la mossa ma ci vuole anche no? beh le coordinate della casella più la figura che ci va messa più le coordinate della figura che ci va messa cioè la mossa negli scacchi è da a origine destinazione quindi una coppia di coordinate della casella dove si trova il pezzo da muovere e una coppia di coordinate dove il pezzo deve essere mosso può essere mosso quindi sono in realtà quattro coordinate ok? sì più dobbiamo anche specificare il tipo di mossa che intendiamo con un qualche tipo di identificazione sì anche il fatto che la mossa sia valida oppure no è una cosa che concerne il motore di gioco perché immaginate quindi un essere umano che non sa giocare un giocatore che non sa giocare a scacchi e prova a fare un po' quello che gli pare ci deve essere nel motore di gioco una funzione tipo questa di tipo can move cioè ma tu quella mossa la puoi fare oppure non la puoi fare in realtà questo can move non è un controllore di mossa avete ragione questo è un controllore se ci sono delle mosse possibili quindi più che can move è are move possible cioè praticamente questa è una sorta di il gioco può andare avanti però il controllore di mosse lecite negli scacchi effettivamente è complicato perché bisogna implementare tutte quelle regole che valgono negli scacchi certamente comunque questo era solo per dirvi che in questo caso specifico noi una mossa la possiamo modellare con un solo intero ma non sempre sarà così magari fosse così sempre ci si può ingegnare magari anche negli scacchi si può implementare una cosa del genere però è un po' più complicato quindi magari rimandiamo questi problemi di volta in volta nei progetti che affrontate a livello di gruppo ok quindi siamo nel tris nel tris abbiamo una matrice di 3x3 caratteri abbiamo detto che la mossa per noi è un intero ed è corrisponde all'indice della casella in cui ci troviamo quindi se questa casella è vuota l'indice della mossa possibile sarà 8 poi ci sono una serie di funzioni e queste funzioni in realtà sono già predisposte per l'intelligenza artificiale quindi oggi noi non ci rimane che implementare solamente il minimax mentre queste funzioni sono già pronte che cosa sono queste funzioni vi ricordate come funziona il minimax? il minimax ha bisogno della funzione di utilità quando raggiunge le foglie cioè gli stati terminali l'utilità vi dice quanto vale quella vittoria o quella sconfitta quindi se andiamo a vedere in utility dentro cosa ci sarà? ci sarà un controllo di valore dello stato terminale del gioco del tipo se ha vinto il giocatore umano perché questo flag è true quando è il giocatore umano allora restituisco meno mille ricordate noi siamo l'intelligenza artificiale per noi che vinca l'avversario è una tragedia quindi meno qualcosa di grande se invece vinciamo noi più mille vedete come è speculare questa cosa altrimenti se non ha vinto tizio se non ha vinto la pallina non ha vinto la croce beh allora io dico che patta e allora zero ok quindi questa funzione di utilità molto semplice che poi potremo complicare dopo dice che la vittoria del giocatore artificiale vale mille la sconfitta vale meno mille e la patta vale zero poi ripeto si può complicare questa cosa perché come vi dicevo l'altra volta non tutte le vittorie sono uguali negli scacchi c'è la vittoria dopo tre mosse e dopo anche un'ora di gioco anche nel tris ci potrebbe essere una vittoria che arriva alla fine oppure un po' prima magari nel tris questa cosa non si vedrà bene però la volta prossima cioè domani noi faremo il tris generalizzato si chiama K è una sorta di forza 4 più che forza 4 è un forza K cioè l'obiettivo è quello di mettere in fila diagonale o orizzontale o verticale K pallini o croci dove K è il parametro del gioco quindi K può essere 3 e quindi è tris può essere 4 può essere 5 può essere 6 può essere 7 ovviamente la scacchiera di volta in volta diventa più grande ecco un gioco come il tris è un tris generalizzato capite bene che più faccio grande questa scacchiera e più aumento K più aumenta la complessità di questo gioco e quindi non è più vero che le vittorie più o meno avvengono sempre nello stesso momento nel tris è difficile che uno vinca la seconda mossa anzi impossibile alla terza mossa significa che il giocatore umano è scemo proprio diciamo la verità nel tris si vince bene o male dopo un certo numero di mosse quindi la differenziazione tra vittoria prematura vittoria tardiva nel tris la possiamo pure fare ma non è che vedremo tutto questo gran risultato invece invece nel tris generalizzato avverrà una cosa molto carina che se noi non diamo alcuna istruzione specifica per dire che le vittorie premature sono più importanti delle vittorie tardive il gioco vedremo che tenderà a non dico andare a caso ma quasi a preferire le vittorie tardive quindi sarà un giocatore artificiale davvero cattivo che darà l'illusione di stare giocando non dico come uno scemo ma senza particolare intelligenza e poi dopo un po' pom arriva il coppo di grazia inaspettato e sconfigge noi il giocatore umano sarà molto divertente domani fare questa cosa però questo è il discorso che stavo facendo quindi probabilmente noi oggi nemmeno ci interessa più di tanto differenziare le vittorie che arrivano prima rispetto a quelle che arrivano dopo perché nel tris parliamoci chiaro troppo semplice quindi per noi una vittoria vale sempre mille e una sconfitta vale sempre meno mille poi però il minimax dice che nel caso di gioco molto complesso non ce la fa ad arrivare agli stati terminali non ce la fa a sbrogliare tutto quest'albero di stati e allora si ferma si ferma ad una certa profondità però quando si ferma non è detto che il gioco sia finito in quel punto quindi cosa deve fare deve stimare la probabilità di vittoria e non quindi il valore della vittoria la probabilità quindi deve dare un valore che sia proporzionale alla probabilità di vittoria e come era presente nelle slide questa funzione si chiama valutazione eval e come è scritto pure nelle slide nel caso del tris molto semplicemente una possibile funzione di valutazione è darmi il numero di vittorie dell'intelligenza artificiale meno il numero di vittorie del giocatore umano quindi il numero di vittorie possibili ragazzi e quindi ragazzi questo è un metodo che dentro si fa tutti i calcoli quindi va a vedere tutte le possibili vittorie orizzontali tutte le possibili vittorie diagonali tutte le possibili vittorie verticali qua ci dovrebbe essere questo dovrebbe essere vertical vabbè non lo sto studiando non lo sto guardando bene uno di questi due deve essere vertical e l'altro orizzontale ovviamente ora non andiamo nel meandre di quel codice a noi oggi interessa il lato di AI quindi è molto semplice questa funzione di valutazione se ci sono se il giocatore artificiale in quel momento ha quattro possibili modi di vincere e il giocatore umano ne ha due possibili per noi quello è un vantaggio dell'intelligenza artificiale quindi 4-2 fa 2 ora noi possiamo sindacare sul fatto che magari ci vorrebbe un moltiplicatore qui dipende tutto da quanto vale la vittoria rispetto al vantaggio noi qui stiamo dicendo che la vittoria vale molto 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 di più che è un semplice vantaggio e questo ci piace perché significa che se tu sei arrivato ad un nodo terminale questo è un valore molto più forte di un semplice stima di vittoria questa è la vittoria questa è una stima quindi è giusto e in generale è normale che le funzioni di utilità restituiscono un valore molto più grande in modulo rispetto alle funzioni di valutazione proprio perché se siamo arrivati a usare l'utilità significa che siamo arrivati alla fine del gioco dove abbiamo la certezza della vittoria o della sconfitta o della patta mentre qui abbiamo una stima delle possibili vittorie e sconfitte o patte perché questo può essere pure zero quando parte il gioco è zero perché tutti e due hanno lo stesso numero possibile di vittorie e sconfitte bene quindi questo è rimane solo ma questo l'abbiamo già discusso ieri come implementare questo thread quindi il nostro la classe gioco è eredita da Qthread quindi ha la possibilità di fare l'override del metodo run il metodo run è quello dove noi faremo effettivamente la nostra intelligenza artificiale cioè noi qua dovremmo richiamare il nostro metodo minimax mentre qui invece si sta solamente facendo una mossa a caso abbiamo la sicurezza la certezza ce lo dice Qthead che il metodo run viene automaticamente eseguito in un thread dedicato un thread che praticamente nasce e muore solo per fare questo run dedicato quindi tutto ciò che avviene qua dentro tutto quello che avviene qua dentro avviene in un altro thread quindi se noi qua mettiamo la parte pesante siamo sicuri che la grafica non viene bloccata quale grafica beh la grafica a un certo punto ovvero nella funzione di mossa quando il giocatore umano muove il giocatore umano fa le sue mosse e dopo tocca alla i fare la sua e fare la sua significa invocare il metodo start di game che non abbiamo scritto noi perché è un metodo di thread di Qthead start invoca run run viene eseguito in un thread separato ecco proprio perché viene eseguito in un thread separato avverrà la seguente cosa che quando io invoco start lui passa subito alla prossima istruzione non si ferma lì proprio perché c'è la nascita di un thread dedicato dove fare il run quindi la grafica io sono in board CPP sono in un metodo della grafica non si blocca a questa riga di codice come era ieri nell'esempio della barra di progresso ma va avanti andare avanti significa che rimane interattiva io posso ridimensionare la finestra navigare menu vedere che ne so la leaderboard perché magari sto aspettando un minuto che ci mette tanto a volte l'intelligenza artificiale eccetera bene questa magia avviene appunto perché il metodo run è assicurato creare un thread apposito per fare le sue cose e però a questo punto abbiamo creato un comportamento asincrono quindi noi andiamo avanti lui va per la sua strada e però se noi abbiamo creato questa biforcazione a un certo punto dovremmo di nuovo ricongiungerci adesso la grafica e la i vanno per cavoli loro e però a un certo punto lei avrà finito di fare le sue cose dovrà segnalare segnalare alla grafica che ha finito e come fa a segnalare indovinate un po' avrà un segnale e badate bene che i segnali in Qt possono essere trasportati da un thread all'altro Qt si occupa ed è questo il bello di fare propagazione di segnali anche tra thread diversi senza bloccare nulla quindi i segnali possono viaggiare attraverso i thread è bellissimo quindi il gioco che sta in un thread separato a un certo punto segnalerà di aver fatto la sua mossa quando quando avrà finito quindi in questo caso per esempio dopo che abbiamo fatto questa estrazione casuale della mossa segnaliamo la mossa e indovinate da chi verrà mai raccolta da chi verrà mai raccolto il segnale della mossa fatta dalla grafica che si connette al motore di gioco e in particolare al suo segnale notify iMove a cosa lo connette quel segnale? lo connette proprio al metodo deputato di eseguire graficamente la mossa quindi la ifa la mossa emette il segnale la board grafica raccoglie il segnale e questa mossa la va a fare nella grafica e quindi ragazzi si tratta di di graficare quindi si tratta di dire alla cella setta questo contenuto la croce o il pallino aggiornati controlla che qualcuno abbia vinto perché se qualcuno ha vinto devi segnare la linea bella centrata con i board arrotondati di quel colore tutte cose grafiche ragazzi e se in particolare abbiamo vinto dobbiamo dire ha vinto l'essere umano ha vinto la i oppure è un pareggio e quindi quello che avviene è esattamente questo ora ci sono 5 secondi di ritardo della i per pensare quindi magari non faccio tutta la partita tra l'altro inizia la i quindi dobbiamo aspettare io vedete sto premendo ma lui non si è bloccato vabbè ho premuto proprio nel momento in cui aveva giocato la i quindi adesso sta di nuovo pensando la i io adesso la faccio vincere se ci riesco perché comunque gioca a caso quindi è stupido però vi dimostro ecco vediamo se riusciamo a vincere diciamo a farla vincere ok ce l'ha fatta ora non è che ha vinto perché è intelligente ha fatto la mossa a caso è andata bene la i ha vinto e vabbè quindi quando vinco io invece dice che vinco io bene allora adesso è arrivato il momento di implementare il nostro max val min val ovvero l'algoritmo minimax ricordate come funziona l'algoritmo minimax beh dobbiamo partire dallo stato in cui ci troviamo e scegliere la mossa che ci dà il valore massimo il valore massimo di cosa? il valore massimo il valore che diamo a quel nodo e come lo diamo il valore? e beh se stiamo in una foglia è l'utilità se stiamo non in una foglia dobbiamo chiamare la funzione di valutazione quindi alla fine il valore lo diamo così e quando scegliamo la mossa scegliamo quella che ci dà il massimo valore ma il valore è cosa? dei suoi figli ma i suoi figli stanno nella mossa dell'avversario quindi devono simulare quello che farebbe l'avversario e l'avversario cosa farebbe? l'avversario di nuovo valuterebbe tutte le possibili mosse e siccome l'avversario umano sceglierebbe quella di valore più piccolo e ma come fa a valutare le possibili mosse? le possibili mosse dopo invocheranno il giocatore artificiale che quindi dovrà dire lui qual è la mossa migliore e la mossa migliore per lui sarà quella che massimizza ed ecco quindi come dicevamo l'altra volta questo rimpallarsi il giocatore artificiale massimizza il giocatore umano minimizza massimizza massimizza e quindi si va di livello in livello e ci si ferma poi quando si raggiunge lo stato finale oppure il massimo livello del gioco quindi cominciamo a implementare questo minval e maxval quindi sono funzioni di utilità quindi le mettiamo qui devono restituire un valore il valore appunto maxval deve restituire il migliore valore di tutte le possibili mosse quindi il valore della miglior mossa a partire da quello stato il valore per noi è un intero anche se potrebbe essere un float nel nostro caso stiamo lavorando con gli interi ma potrebbe essere un numero float quindi il nostro maxval è qualcosa di questo tipo il nostro minval è qualcosa di questo tipo ora ci dobbiamo chiedere dentro qua dentro ci dobbiamo mettere cosa ci dobbiamo mettere perché le slide ci dicono che ci dobbiamo mettere il nodo quindi dobbiamo costruire un albero e poi ci dobbiamo mettere il D che sarebbe la difficoltà del gioco quindi il livello di profondità dell'albero di gioco però vi dicevo l'altra volta che se noi ci mettiamo il nodo significa che noi dobbiamo costruire un albero costruire un albero significa che noi cacchia dobbiamo fare una struct nodo che c'ha non 4 figli ma al massimo 9 figli quindi struct nodo dentro c'ha una cosa di questo tipo dobbiamo fare è bruttissima dobbiamo fare una cosa di tipo struct nodo che c'ha una cosa di tipo nodo star figli al massimo ne può avere 9 ma in realtà non tutti i 9 saranno esisteranno alcuni saranno non nulli perché ovviamente non si possono sempre fare 9 mosse e poi questi sono i figli e poi il nodo attuale è purtroppo una matrice di quindi questo lo chiamiamo stato il stato del gioco è una matrice di 3x3 caratteri e e poi magari ci dobbiamo anche dare il valore di questo nodo quindi int val ragazzi quanto occupa questa roba qui allora sono questo è un puntatore quindi sono 8 byte nell'architettura 64 bit appunto sono 64 bit servono per indirizzare una cella in memoria quindi sono 8 byte 8x9 più più 1 byte per 9 più 4 byte per l'intero quindi sono 8x9 8x9 non c'è 8x9 più 9x9 più 4x9 per il valle sono 85 byte quanti nodi ci saranno in questo albero? 9x9 doveva essere mi pare sono più o meno eb alla d quindi sono il numero di mosse per la profondità la profondità se vogliamo fare un giocatore potente deve essere pari alla profondità massima di gioco quindi 9x9 quindi 85x9 alla 9 aspetta chiediamolo 9x9 per 85 sono 32 miliardi di byte cioè 33 gigabyte vi piace questa cosa? 33 gigabyte di memoria per risolvere il tris figurati quando facciamo il k-tris figurati quando facciamo lo scacchi o il bejeweld o il backgammon o il 2048 eccetera 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 no non si può fare si può fare ma forse si potrà fare con i computer quantistici non è detto non credo ma comunque noi questo non lo facciamo non posso metterci una bella croce una bella x ma idealmente immaginate di mettere una x su questo approccio voi non dovete mai implementare l'albero di gioco non fatelo perché non ci riuscite a implementare l'albero di gioco bisogna inventarsi una strategia per evitare di implementare l'albero di gioco ora nel caso del tris la strategia ma in realtà non è solo nel caso del tris praticamente nella quasi totalità dei giochi noi dobbiamo sfruttare il fatto che noi ce l'abbiamo la griglia la board la tavola del gioco la scacchiera sta lì immaginate come se voi ce l'aveste sul tavolo l'intelligenza artificiale abbiamo capito che ormai consiste nel fare tante simulazioni ora però se noi implementiamo questo approccio le simulazioni avvengono tramite copie di quella tavola noi non vogliamo fare delle copie noi vogliamo fare quelle simulazioni su quella board come se ce l'avessimo davanti facendo di volta in volta tutte le mosse che bisogna fare però questo significa che per ogni mossa che noi facciamo dobbiamo poi essere in grado di fare l'andu altrimenti come facciamo poi usare la stessa scacchiera per fare tutte le simulazioni quindi significa che noi prima qua ci mettiamo una croce qui poi ci mettiamo un pallino qui e poi dobbiamo togliere questo pallino togliere questa croce e andare in quest'altro per esempio nodo quindi dobbiamo avere la capacità di quello che mettiamo cioè la mossa che facciamo dobbiamo poi farne l'andu ora nel caso del trist questa cosa è banale perché fare una mossa significa inserire un carattere in una certa cella della griglia fare l'andu che significa ragazzi eliminare quello stesso carattere da quella cella cioè metterci lo spazio quindi nel caso del trist è molto semplice nel caso degli scacchi o altri giochi non è detto che sia così semplice perché nel caso degli scacchi c'è la mangiata della dama pure c'è la mangiata quindi non è soltanto io sposto tra l'altro a fare l'andu significa che bisogna fare uno spostamento nella scacchiera e in più bisogna considerare anche le pedine che sono state mangiate e se il pedone era arrivato alla non mi ricordo come si dice comunque quando arriva il pedone nella prima riga dell'avversario e si trasforma in regina beh si può trasformare in qualunque pezzo però normalmente uno sano di mente lo trasforma in regina devo tenere conto anche della trasformazione delle pedine quindi fare l'andu è un po' più complicato nel caso del BG World fare l'andu significa ricordarsi praticamente di tutti quegli spostamenti che sono avvenuti quando io ho fatto la mossa nel caso del BG World ci sono delle cose che cadono delle cose che si cancellano e poi è un bel casino il BG World fare l'andu così come è un po' un casino fare l'andu nel 2048 fortunatamente quando i giochi si fanno molto complessi uno ci rinuncia a fare il minimax non è che ci rinuncia esiste una strada alternativa che è il Monte Carlo che vedremo che probabilmente vi salverà dal fare persino l'andu potrebbe anche non essere nemmeno necessario fare l'andu nel Monte Carlo però il Monte Carlo è subottimo se uno vuole fare un'intelligenza artificiale che batte i campioni la deve fare probabilmente usando il minimax in effetti è quello che è stato fatto in questi decenni quindi tutto questo per dire nel max val e nel min val dobbiamo o non dobbiamo metterci il nodo no perché per noi si intenderà il nodo del gioco cioè lo stato di gioco per noi sarà lo stato corrente posto che sapremo sempre fare l'andu per noi board rappresenta in quel momento il nodo dell'albero di gioco lo condividiamo ok quindi questo è il nostro nodo che ovviamente viene modificato pertanto dobbiamo sempre fare l'andu quando facciamo una modifica quindi non abbiamo il nodo e abbiamo la difficoltà beh sì ce la danno la difficoltà quindi possiamo possiamo sì dargli la difficoltà quindi intd sarebbe la difficoltà del gioco quindi cominciamo a implementare facciamo magari qui facciamo prima di run e poi minval allora intanto per noi che significa d? nelle slide d è la difficoltà del gioco quindi è uguale per tutti per tutti maxval io gli dico sempre guarda il gioco ha questa difficoltà e maxval cosa fa? siccome lui c'è il nodo e per noi non ce l'abbiamo lui dice ehi nodo a che livello ti trovi? perché se ti trovi proprio a d beh allora devi fermare ok però noi non abbiamo un nodo non possiamo fare il livello di u non ce l'abbiamo e allora possiamo fare un trucchetto possiamo dire che per noi d non è la difficoltà ma è il livello a cui ci troviamo di profondità quindi magari ecco forse più che chiamarlo d forse dovremmo chiamarlo level questo ci fa capire che qual è l'idea ragazzi? l'idea è quella di dire che se noi partiamo da se noi diciamo che la difficoltà è 2 noi partiamo da 2 e ogni volta che scendiamo di livello decrementiamo questo numero diventa 1 poi diventa 0 e beh quando diventa 0 significa che abbiamo attraversato un numero di livelli pari alla difficoltà del gioco pertanto significa che abbiamo raggiunto uno stato in cui ci dobbiamo fermare ora come chiamare questa cosa? chiamarlo level chiamarlo d d forse è ambiguo perché d ci ricorda la difficoltà anche se d potrebbe stare anche per depth però depth è qualcosa che cresce all'aumentare della dell'esplorazione mentre il nostro questa variabile è una cosa che decresce è l'inverso di depth quindi che cos'è? livello livello è una sorta di altezza in realtà se ci pensate però non è un'altezza del lab è un'altezza temporanea non so davvero come chiamarla questa cosa se avete un'idea vabbè i problemi di nomi sono sempre secondari rispetto al codice io lo chiamerei strato che ne so layer quindi parto oppure posso chiamarlo depth mancanti boh d mancanti non sappia veramente come chiamarlo questa cosa vabbè per il resto chiamiamolo d poi magari l'importante è che abbiamo capito che cosa fa questo d poi ci mettiamo d'accordo sul nome insomma ci penso un attimo allora quindi siamo in un generico stato del gioco dobbiamo chiederci appunto se siamo arrivati ad uno stato terminale se non ci siamo arrivati se abbiamo raggiunto la d massima quindi uguale a zero e dobbiamo prendere le decisioni quindi intanto possiamo dire una cosa del tipo il gioco è finito perché se il gioco è finito io subito subito ti sparo la funzione di utilità cioè la cosa che so fare in maniera più ignorante è dire se il gioco è finito finito è un ambuleano quindi se è finito allora se il gioco è finito io so qual è il valore di questo nodo è sicuramente il valore di utilità e il valore di utilità fa più mille meno mille eccetera ecco questo sarebbe il momento in cui noi dovremmo combinare se volessimo pesare le vittorie premature rispetto a quelle tardive questo è il momento in cui dovremmo combinarlo con D e dovremmo fare una cosa del tipo dobbiamo dare un valore più grande un valore assoluto quindi un moltiplicatore se D è più grande quindi una sorta di D per utility però attenzione che D potrebbe essere zero perché lo decrementiamo quindi è meglio dire D più uno ecco questa è una cosa del tipo guardami guarda questo è un valore che parte da due da tre parte da un valore massimo di D decrementato significa che ogni volta che io trovo uno stato terminale più lontano questo moltiplicatore è più piccolo quindi sto dicendo che le vittorie lontane sono meno importanti hanno un valore minore rispetto alle vittorie vicine quindi sto creando in questo momento una I per certi versi forte e anche leale cioè che vince subito invece se non facciamo questo creiamo una I bastarda che vince alla fine facendo soffrire il giocatore e anche illudendolo che sta giocando bene e ragazzi questa è una caratteristica del vostro del vostro gioco potreste fare un menu con un'opzione bastarda I oppure fair I fair significa leale e bastard significa attiva e questa sarebbe la differenza tra dare peso alle vittorie future oppure stesso peso per tutti ora nel caso del Tris ragazzi noi davvero non si vede questa cosa io posso anche provare a implementarla ma sì la lasciamo perché comunque ce la ritroviamo magari per il K Tris ma non non da questo nessun non lo vedremo la differenza come facciamo a capire che la vittoria arriva subito oppure no ci proviamo ma non credo che la vedremo ok quindi se è finito il gioco di Perutetti ma questa cosa qui in realtà vale anche per Minval è speculare questa cosa e ragazzi questo dovrebbe darvi un piccolo vedremo noi adesso che mano a mano che andiamo avanti nel codice Maxval e Minval si assumeranno tantissimo talmente tanto che si potrebbero addirittura fondere un'unica funzione che si chiama però non voglio complicare la vita quindi non lo facciamo si chiama Negamax il Negamax è una variante del Minimax in cui si fondono Maxval e Minival in un'unica funzione e quindi non c'è una funzione che gestisce tutta la ricorsione e tutta l'intelligenza artificiale però vabbè ve l'ho detto e magari poi ve lo faccio vedere un giorno ve lo faccio vedere non oggi domani probabilmente allora quindi se abbiamo finito restituiamo l'utilità quindi se siamo qui è perché non abbiamo finito e se non abbiamo finito dobbiamo chiederci se possiamo andare avanti perché se è puttacaso D è uguale o uguale a 0 aia se D è uguale o uguale a 0 noi non possiamo esplorare con l'albero di gioco quindi dobbiamo restituire subito adesso immediatamente un valore e indovinate un po' che cosa restituiremo? restituiremo le val anche qui potremmo fare discorsi di tipo di moltiplicare la stima di vittoria per la profondità questo significa dare un peso di nuovo maggiore alle alte probabilità di vittoria premature però questo è un discorso un po' più contorto perché mentre questa era una vittoria sicura questa è una stima quindi se la stima è sbagliata e voi ci mettete un moltiplicatore state un po' interferendo con l'ottimizzazione dei minimax cioè state enfatizzando una cosa che potrebbe essere non accurata e quindi il vostro giocatore potrebbe prendere delle scelte sbagliate perché voi avete enfatizzato quelle scelte è meglio non fare questo discorso di enfatizzazione prematura tardiva quando si tratta di eval quindi vabbè anche qui guardate un po' non sorprende che stesso codice anche per il nostro minval a questo punto dobbiamo fare dobbiamo fare l'esplorazione dell'albero ovvero se noi non siamo uno stato terminale e non siamo uno stato intermedio però comunque terminale perché ci dobbiamo fermare dobbiamo dare un valore cioè dobbiamo fare un retardo anche qui ma quale sarà il retardo in questo caso dobbiamo restituire siamo maxval il massimo delle utilità delle utilità scusate dei valori dei nostri figli qui dobbiamo fare una cosa per favore calcolami il massimo dei miei figli che sono poi dei mini val e però io non ho argmax sarebbe bello in cpp avere un'unica linea di codice e sarebbe finito praticamente il nostro maxval dobbiamo fare un ciclo quindi dobbiamo fare un ciclo un ciclo su cosa su cosa dobbiamo fare cicli sui nostri figli ma i nostri figli chi sono sono le possibili mosse i figli sono le mosse e dove stanno le mosse possibili stanno in una lista di mosse possibili quindi per ciascuna mossa possibile in i cells adesso m rappresenta l'indice monodimensionale della cella della mossa quindi questa è una mossa beh se m rappresenta una mossa allora io posso fare questa mossa come fare questa mossa e beh ho la scacchiera vado a fare questa mossa quindi faccio m diviso 3 faccio m percentuale 3 trasformo quindi l'indice della mossa in indice di riga e di colonna e gli dico beh io sono maxval quindi gli devo dire che qua dentro ci devo mettere il il not player piece no perché player piece sarebbe no ci devo mettere i piece come si dice i piece i piece i piece ci devo mettere cioè ci devo mettere il pezzo relativo all'intergenza artificiale che hanno deciso essere x quindi ci devo mettere questo pezzo e poi mi devo chiedere adesso che ci ho messo questo quindi ho fatto la mossa mi devo chiedere quanto vale questa mossa quindi quanto vale questo nuovo stato in cui sono andato e beh lo devo chiedere lo devo chiedere a minval quindi devo chiedere hey minval mi dici per favore quanto vale dal tuo punto di vista lo stato di gioco dopo che io ho fatto questa mossa e minval farà le sue valutazioni ora però ricordiamoci noi chi siamo noi siamo max val quindi a noi ci interessa il massimo di tutte le possibili mosse e quindi se ci interessa il massimo dobbiamo appunto vmax dobbiamo inizializzare una variabile con con ci interessa il massimo quindi con meno infinito come è che l'inizio di meno infinito per interi non c'è quindi prendiamo il numero più piccolo possibile e con questo diciamo questo lo chiamiamo come lo chiamiamo vali vali non lo so il valoriesimo del figlio val mval lo chiamiamo cioè quanto vale mval mval varrà minval di di o di qualcosa ogni volta che scendiamo dobbiamo decrementare di quindi stiamo chiedendo al nostro figlio quanto vale siccome il nostro figlio è min gli stiamo chiedendo quanto vale dal suo punto di vista e ce lo dice questa funzione lo mettiamo qui e diciamo guarda beh se mval se mval oppure senza mval facciamo direttamente vmax uguale il massimo tra vmax e mval mval quindi questo ciclo a che serve serve per dire guarda prova a fare questa mossa qui e chiedi quindi al giocatore avversario quanto vale quella mossa beh per chiederglielo devo invocare la sua funzione di valore e purtroppo il giocatore avversario è min quindi devo chiederlo con min la metto qui dentro e chiedo di calcolare il massimo tra questo e questo tra l'altro potevo anche evitarmi di effettivamente no sì potevo evitare di di creare una variabile temporanea perché tanto sta qua dentro quindi noi siamo max e noi andiamo a calcolare il massimo valore tra i figli ma i figli sono di tipo min val ora questa cosa qui ancora non è finita non è corretta perché se noi stiamo facendo questa mossa fare questa mossa significa però anche eliminare la mossa da quelle possibili altrimenti il povero min val non capisce che nella lista di mosse possibili uno ne ha tolta una bisogna togliere appunto quindi bisogna dire remove remove di m e qua dobbiamo stare un po' attenti perché stiamo rimuovendo qualcosa da una lista che stiamo scorrendo però niente panico perché dopo che il nostro min val ha fatto tutte le sue valutazioni noi la mossa la reinseriamo si è una lista quindi push 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 back l'ordine delle mosse non è importante perché vengono valutate tutte ok quindi non conta questa cosa quindi questo significa questo significa fai la mossa questo è fai la mossa do move questo è evaluate move valuta la mossa e questo è undo move ecco l'undo dove sta sta in questo semplice caso in questo semplice gioco nell'andare a reinferire la mossa dentro questo dentro questo lista di mosse possibili abbiamo terminato il tempo domani continuiamo da qui si tratta ragazzi minval sarà praticamente uguale solo che qui ci sarà min e qui ci sarà max ma sarà esattamente speculare e anche qui ci sarà max quindi abbiamo quasi finito vi lascio con il dubbio di questa cosa funzionerà riuscirà a batterci noi che giorno domani giocheremo ovviamente spero di sì quindi la lezione termina qui di Grazie a tutti.